1963 Dallas ucciso John Fitzgerald Kennedy 1975 Juan Carlos proclamato re di Spagna 2005 Germania Angela Merkel giura come cancelliere commenta il fatto del giorno Maurizio Lucchi direttore della prealpina ho scelto di parlare di Blitz perché è una trasmissione che ha contribuito a cambiare la storia della televisione italiana